Cosa vuol dire strategia? Io mi ricordo che mi trovavo appeso all'ingiù. Perché per quanto possa sembrarvi strano, c'è stato un periodo in cui ero magro. Cara Serena Burbassi, lei non ci crederà, ma... E io mi ricordo che vedevo il prato oscillare sotto di me. Vedevo una macchia bianca nel prato, che era un cane da pastore delle vostre zone, un pastore maremano abruzzese, e vedevi fiorellini. E stavo facendo praticamente l'acrobata, perché ero appeso per le gambe alla mia scala corda, alla mia altalena del mio albero, come fanno i ragazzini quando giocano. e vedevo mio papà che stava scrivendo su di un foglio di carta e su quel foglio di carta stava scrivendo degli appunti a matita. Io sono sceso dalla mia scala a chiocciola, insomma, alla mia scala corda, mi avvicino a mio papà e gli dico, papà, ma cosa stai facendo? E lui mi rispose, sto pensando a cosa vado a fare in Polonia. Ecco, io allora non capivo esattamente cosa stesse facendo mio papà, l'ho capito tanti, tanti anni dopo. Stava facendo un ragionamento strategico. Ora, in 15 minuti, tale è il tempo che mi sono ritagliato, è difficile spiegare che cosa voglia dire fare strategia ad un pubblico di imprenditori. Tanto che avevo preparato delle slide, ho pensato di fare delle slide, e poi mi sono detto, che faccio? Metto dei modelli? Metto delle immagini? Metto degli schemi? Faccio una sintesi di una lezione? Che faccio? Allora ho pensato che forse è meglio parlare agli imprenditori a cuore aperto e dire cosa non è strategia. Ecco, strategia non sono i libri. Io ne ho qua sette, otto libri di strategia, non è quella roba lì. Non sono i modelli, non sono le università, non sono le biblioteche, non sono i convegni del Sole 24 Ore o delle associazioni di categoria. Non è quello. Soprattutto strategia non è quello che io insegno da tanti anni in università. Per esempio, quando presento un modello economico, si dice questo modello, il Capital Asset Pricing Model, per chi si occupa di finanza, per esempio, si basa su due assunti. Il primo assunto è che il mondo si declina in medie varianze. Il secondo assunto, o assioma del modello, è che gli uomini sono razionali. Puttanate. Non è vero. Non è vero che il mondo è fatto di media varianza e io non ho mai visto un'azienda razionale. Allora vi voglio cercare in pochi minuti di dirvi che cos'è la strategia. La strategia, secondo me, sono i luoghi. Uno può parlare di strategia se è stato in quei luoghi. Nella mia memoria, un alto forno. Siete mai stati a provare il calore di un alto forno? Oppure un'azienda che produce formaggio? Avete mai sentito l'odore di un'azienda che produce formaggio? Oppure il rumore delle rotative per la stampa? Avete mai sentito il rumore delle rotative? Ecco, la strategia vuol dire conoscere i luoghi. La strategia vuol dire conoscere i momenti. Perché tutti pensano che strategia si faccia nello studio di qualcuno, no? Ma io ho imparato a fare strategia tanti anni fa nei caselli autostradali di notte dalle 18 alle 22 a Bardonecchia in mezzo alla neve piuttosto che a mezzogiorno con il sole che ti picchia sulla testa su di un biodigestore di cemento dove tu devi decidere se portare quel campo a produrre energia elettrica da vendere al GSE invece che fare della colza. I momenti che io ricordo sono quando negli studi di un commercialista tal dei tali ho visto una donna piangere perché il marito aveva sbagliato la strategia dell'azienda e non era un problema dell'azienda, era un problema per la famiglia perché a quel punto il commercialista veniva chiamato per chiamare l'avvocato per cominciare a difendere il patrimonio e via discorrendo. Strategia quando mi sono trovato alle tre di notte in un ministero ad inventarmi come difendere sostanzialmente la mia persona da dei rischi che erano rischi in quel caso manageriali quindi la strategia anche del manager dopo parlerà credo un amministratore delegato. Strategia vuol dire portare a pisciare un cane di notte perché gli amministratori pubblici parlano di strategia non davanti ai riflettori o alle telecamere ma in privato. Quindi i luoghi, i momenti aggiungo i dettagli i dettagli come per esempio quando io viaggiavo con un imprenditore e chiesi a quell'imprenditore che era un imprenditore importante delle piemontese e dissi scusa un momento ero in macchina con lui ero un ragazzino avevo le braghette corte i miei primi momenti di consulenza dove mi consigli domani di mettere i miei soldi e lui me lo disse nella propria azienda e altri imprenditori che mi dicevano guarda che quello che è importante non è fare grandi strategie ma occuparsi della propria azienda per esempio i gabinetti i cessi se preferite guarda che è importante sapere come sono i cessi della tua azienda perché è la prima cosa che un cliente andrà a vedere non la reception e nemmeno l'ufficio dall'amministratore delegato ma gli sgabuzzini le linee di confezionamento le linee dei magazzini le linee degli operai se sorridono o non sorridono all'imprenditore strategia è tutto questo strategia sono le emozioni quali emozioni? beh io mi ricordo da giovane andavo a fare consulenza in giro per le aree della provincia di Torino per esempio nel settore una zona molto industriale mi ricordo una volta una commerciale che mi portava in giro io facevo il tecnico ovviamente e a un certo punto entriamo in una delle tante aziende un'azienda artigianale producevano bulloni viti queste cose a un certo punto l'imprenditore artigiano va vicino ad un barile e dice signorina vorrei farle un regalo dopodiché prende un panno un panno sporco che aveva in officina prende questo dado che era ancora coperto d'olio pulisce l'olio e lo dà a questa giovane consulente che era con me finita la consulenza lei sale in macchina con me scoppia a ridere e io le dico scusa ma perché ridi e lei tira fuori questo dado di metallo di questa azienda manifatturiera e mi fa la battuta e dice mai che mi faccia un regalo un gioielliere e lì per lì ho sorriso poi qualche secondo dopo ho capito e ho capito che in realtà quell'imprenditore per lui le aveva regalato un gioiello le aveva regalato la propria vita un simbolo naturalmente strategia è questa quando io sono in consulenza con gli imprenditori so che la cosa fondamentale è l'autostima per esempio perché perché quello che conta come dicevo prima è sapere dove mettere i propri soldi dove mi diceva uno che poi avrebbe venduto in borsa proprio la propria azienda dice nella tua azienda quello è il posto migliore dove mettere i soldi se non metti i soldi nella tua azienda vuol dire che non hai stima in te stesso allora quella razionalità di cui dicevo prima che si usa nei modelli economici dov'è? io non la vedo nelle aziende prima Fabio dava dei numeri delle piccole medie grandi imprese io le ho viste tutte queste ma vi posso soltanto dire che mi viene in mente ad esempio a proposito di razionalità Luigi Einaudi tutti l'abbiamo letto nel dopoguerra diceva non si capirebbe come mai migliaia milioni di individui continuano a fare quello che fanno cioè gli imprenditori nonostante quello che noi politici facciamo per ostacolarli perché non puntano solo al guadagno ma c'è un'altra dimensione importante che si chiama orgoglio se non fosse così diceva Einaudi non si spiegherebbe quindi strategia vuol dire soprattutto azienda produttiva dov'è produttiva può essere servizi commercio artigianato ristoranti tutto ma non è trovare la via di fuga di tipo finanziario no non è quello strategia solitudine la solitudine è quella cosa che è difficile da spiegare la provi di notte quando alle tre di notte spalanchi gli occhi guardi il soffitto non accendi la luce perché magari non vuoi svegliare qualcuno che a fianco a te ma ti poni delle domande preoccupato sul tuo futuro perché magari hai messo la firma e ci sono in gioco la tua casa e queste cose difficili da spiegare sui libri non ci sono sui libri la strategia essenzialmente è coraggio il pugilatore quell'immagine che abbiamo scelto che trovate in alto a destra nella slide l'abbiamo scelta io Riccardo e Fabio che ringrazio per una ragione che quell'immagine è secondo me l'immagine dell'imprenditore oggi è un pugile suonato ora se voi andate sul libro dell'istoria dell'arte e vi documentate minimamente su quel bronzo che risale al quarto secolo avanti Cristo probabilmente ha scritto alla scuola di Lisippo trovate che quel signore è sordo perché ha delle tumefazioni alle orecchie è un atleta semibarbaro così viene definito dall'archeologo che nel diciannovesimo secolo scopre a Roma questa secondo me meravigliosa opera storica un semibarbaro un uomo maturo non è un ragazzo un uomo segnato dal tempo che ha preso pugni in faccia e trovate che ci sono però alcune parti della statua più lucidate degli altri perché chissà nell'antichità probabilmente c'erano degli antichi ammiratori che toccavano quella statua come simbolo dell'uomo che continua a combattere ecco questo a me piace pensare essere l'immagine degli imprenditori che conosco io quindi non c'è è paradossale io potevo parlarvi di programmazione pianificazione porter jacobites qualsiasi roba come si fa di solito nei convegni e giunto alla mia età arrivo a dirvi no non esistono i piani strategici ne ho fatti tanti naturalmente anche per enti pubblici aziende piccole aziende quotate tutto ma non ci sono la strategia è istinto è l'opposto di quello che è scritto nei libri perché non si può pianificare il futuro non ci sono dei modelli non è statistica non è calcolo delle probabilità e io non posso e non voglio promettervi niente di quella roba lì perché altrimenti dovrei rispondere ai tanti San Tommaso che chiederebbero che cosa che cosa io posso garantire in un'attività di consulenza strategica perché poi alla fine di questo stiamo parlando in questo webinar di una cosa molto pratica le prove beh fra pochi minuti io darò la parola ad alcuni imprenditori con i quali ho l'onore e il piacere di fare attività di consulenza perché prima di tutto è un atto di fiducia ma ma io ho prenotato una ed una sola slide dopo avervi detto che cos'è secondo me la mia idea di strategia che non è quella che ho imparato sui libri ma ho imparato nelle aziende perché molti mi conoscono come un un docente ma io in realtà per tanti tanti anni ho ho portato il casa al pane parlando con gli imprenditori questo è stato sempre il mio mestiere per tanti anni per tanti anni per tanti anni per tanti anni Grazie a tutti.